Cornicioni Nando Cornicioni Nando Te invece devi essere abberto, eh Quanto sei bello, finalmente te conosco Ma quello che c'ha? Lo zio ha subito un grave danno all'organo più importante No Eh sì, gliene è rimasto meno di metà Mortacci Vabbè, andiamo avanti con le presentazioni Cornicioni Nando Conte Vladimir dello Scuro Supplizio Questa è la mia consorte Donna Brunil de Vega della Muerte Dolorosa Contessa di Valacchia di Moldavia E il fratello Giovanni Tenorio Marchese del Sepolcro Sconsacrato Megoglioni Siente, vantimidi che tanto noi titoli ce l'hiamo in banca Non ti preoccupa Mia moglie Stella